Ciao a tutti, rieccoci! Oggi andiamo a fare un bel plum cake con lo yogurt. Ok, ecco gli ingredienti che ci serviranno per preparare il plum cake. Farina tipo 2, fecola, yogurt intero, scorza di limone, uova, lievito, un pizzico di sale e olio di semi. Ecco le attrezzature che ci serviranno per preparare il plum cake. Uno sbattitore elettrico, un cucchiaio di catagami, uno stampo da plum cake, una frutta, un settaccino e un cucchiaio. Rompere le uova e sbatterle in una bowl con lo zucchero con la frusta elettrica. Attendere che le uova raddoppino di volume e togliere le fruste elettriche. Aggiungere lo yogurt e con una frusta iniziare a mescolare dolcemente. Aggiungere la scorza di limone e continuare a mescolare. Aggiungere a filo l'olio di semi mescolando. In un'altra bacinella mescolare le polveri con un cucchiaio e andarle ad inserire nel composto precedentemente fatto con un setaccio, mescolando dall'alto verso il basso con un cucchiaio alle catagami. Ottenuto il nostro composto, andiamo a versarlo nel suo stampo. E dopo aver pulito il nostro cucchiaio di catagami, immergiamolo nell'olio di semi e facciamo un'incisione al centro del nostro plum cake. In modo che si possa aprire. Inforniamo per 55 minuti in forno ventilato. Controlliamo con uno stecchino che sia cotto. Ed infine spolveriamo con lo zucchero a velo. Ed ecco voi il plum cake allo yogurt magro, pronto per una merenda o per una colazione. Alla prossima! Alla prossima!